ciao ti starei chiedendo perché mai dovrei seguire l'ennesima insegnante di spagnolo che propone video sui social io ti farò scoprire questa lingua da vari punti di vista perché lo sapevi che lo spagnolo è la terza lingua più parlato al mondo dopo il cinese e l'inglese ci sono 480 milioni di persone nel mondo che usano questa lingua come lingua materna ed è parlata in ben 21 paesi seconda solo al cinese secondo i dati del 2018 ci sono più di 570 milioni nel mondo di persone che usano questa lingua per comunicare o la studiano per interesse personale è una lingua ampiamente diffusa anche in paesi come gli stati uniti la francia quindi perché limitarsi solo ad una varietà linguistica come diceva provocatoriamente lo scrittore cubano guillermo cabrera infante il spagnolo è demasiado importante per dejarlo nelle mani degli spagnoli io ti farò scoprire la bellezza di questa lingua tra culture diverse e varietà linguistiche inimmaginabili senza soffermarci solo sulla bellissima Spagna sarà un viaggio fra mondi fantastici e alla fine sono certa che anche tu ti innamorerai di questa lingua tanto quanto me e come dico sempre se vuoi essere felice impara lo spagnolo